Restare invisibili, impalpabili e zitti, dirottare l'attenzione ovunque, tranne che su se stessi, lasciare agli altri la follia anfetaminica di apparire, sorridere, ridere, angheggiare, mistificare, presenziare, presentarsi, trasformare amicizie e amori in pubbliche relazioni, passeggiare sui tappeti rossi fino a cadere sotto il fuoco incrociato di un plotone di flash. L'eleganza non è mai sfacciata, preferisce alimentare se stessa con sfumature e dettagli invisibili ai più. Nuova BMW Serie 3 Coupé Nuova BMW Serie 3 Coupé Nuova BMW Serie 3 Coupé Nuova BMW Serie 3 Coupé